Gentili telespettatori, buona giornata. Quello che vado a raccontarvi è assolutamente incredibile, ma a che livello è arrivata l'Italia? Poi non hanno ragione i giornali stranieri a prendere in giro le città italiane e dire che le città italiane sono le peggiori d'Europa. Hanno definito Napoli il terzo mondo d'Europa. Non parliamo di Napoli, e salutiamo anche i napoletani, ma parliamo di Roma, la capitale, Caput Mundi, la città eterna. Sì, perché è eterna la spazzatura. Sentite questo, questa è veramente una roba che non si può neanche ascoltare. Sentite, un premio di 360 euro ai netturbini, operatori ecologici, mica che si offendano, operatori ecologici che non si danno malati per due mesi. Avete sentito bene? Cioè, vi danno un premio se voi per due mesi non vi date malati. Questa è una delle cose più assurde che abbia mai sentito in politica. Qui superiamo di gran lunga il reddito di cittadinanza, qui siamo veramente all'apoteosi, l'apice, la cima. Il bonus andrà agli operatori mai assenti tra il 22 novembre e il 9 gennaio. Quindi da questo 22 novembre al 9 gennaio non un premio produzione, non lo so, Roma è pulita, oppure avete fatto delle ore di straordinario, avete fatto qualcosa? No. Se non vi date malati, se non visto che ci arrivano le feste e probabilmente si danno malati molti, perché se l'azienda arriva a dire se non vi date malati, vi do 360 euro in busta paga, eh, c'è qualcosa di profondamente sbagliato da quelle parti, eh? Ma dicono che sono dei premi per salvare il piano di pulizia straordinaria. Ah, i premi per salvare il piano di pulizia straordinaria. E come, non so se avete visto i video precedenti, cambiano i nomi. Il politicamente corretto vi fa cambiare i nomi del Netturbino che diventa operatore ecologico. Un giorno non si potrà dire neanche più operatore ecologico, si dirà quella persona che fa del bene sulle strade. Non lo so, sapete che dopo un po' i termini vengono cambiati perché, eh? Quindi al posto che dire le cose come stanno, questo è un premio per salvare il piano di pulizia straordinario. Che cosa hai capito? Eh, io ho capito che danno 360 euro a chi non si dà malato. E se danno questi soldi significa che ogni anno sotto le feste molti si danno malati. O no? Eh? Secondo voi, a Milano, a Bolzano, a Trieste, a Bologna, danno un premio agli operatori ecologici che non si danno malati tra il 22 di novembre e il gennaio. Perché solo a Roma? Perché solo in questa azienda Ama? Ama non c'è. È andata via. Ama non è più cosa mia. Bene, l'accordo è tra Ama e i sindacati. CGL, CISL, Will, Fiadel. È stato firmato giovedì. Alla fine di un lungo incontro, cominciato alle 10.30, è concluso solo cinque ore dopo. Bene, in cinque ore dopo sono arrivati a questa bella genialata. Eh? L'azienda dà 360 euro a chi non si dà malato. Beh, non è un accordo come voleva. I sindacati parlavano di fare un accordo sul lavoro straordinario. Incentivi per aumentare la produttività. La produttività cos'è? Di solito, nel commercio è il lavoro, cioè il fatturato diviso le ore lavorate. Più quel numero è alto, più sei produttivo. Fatturato, soldi che entrano nel supermercato, diviso le ore di lavoro nel supermercato durante una settimana o un mese. Quella è la produttività. In questo caso aumentare la produttività significa tirar su più spazzatura possibile. I sindacati vanno lì per parlare di lavoro straordinario di produttività e si sentono dire dai gli diamo 360 euro così non si danno malati. Eh? Eh? Bene. Ma loro parlano di premi mensili, cioè un premio per non darti malato. Partiamo dal presupposto che se tu sei malato non puoi non darti malato. Se tu sei malato non puoi andare a lavorare. Se sei malato vero il dottore ti dà i giorni e tu sei a casa malato. Com'è la storia ti do un premio se non ti dai malato? Eh? Allora mi state dicendo che la gran parte delle malattie sono fasulle. Allora cari miei cominciate ad andare a controllare i medici che danno queste malattie così a cavolo di cane. Non solo i lavoratori di ama non c'è, è andata via, ma controllate pure i medici. Certo che abbiamo detto che la raggi non funzionava, che è vero, non funzionava, ma che adesso arriva il PD e... beh qui un accordo tra l'azienda e i sindacati, ma dietro c'è la politica, cosa credete? Adesso diamo un premio se non ti dai malato? Questa è una cosa che non si può ascoltare. Quindi e i dipendenti al netto di riposi e festività infrasettimanali previsti per legge saranno quegli lavoratori che saranno sempre presenti in quel lasso di tempo, cioè non si daranno malati, andranno 360 euro lordi, poi a scalare 260 chi mancherà tre giorni e 200 chi mancherà cinque. No, non si può sentire. Cioè se tu in quei due mesi, oltre alle festività, ti dai malato tre giorni, ti danno 260 euro. Se ti dai malato cinque giorni, ti danno 200. Ma, scusate, ma questa cosa qui è veramente uno scandalo. E dicono chiediamo uno sforzo ai lavoratori, lo sforzo di non darsi malati? Vi ripeto, se uno è malato non è che deve andare a lavorare o no, se uno è malato è malato. Non è che si può andare a lavorare malati. Con la febbre a 40 vai a lavorare perché mi devono dare i 360 euro. Questa è tutta una sorta di ipocrisia. Chiediamo uno sforzo ai lavoratori, cioè lo sforzo di non truffare l'azienda? Ma questo sforzo di non truffare l'azienda verrà riconosciuto. Dice non ho dubbi e prenderanno parte al piano nonostante le feste, assicura Massimiliano Gualandri della Fit Cisle. Veramente qui è il fondo, il livello più basso mai sentito. Arrivederci a tutti e grazie.